Il Consiglio regionale ha approvato con 24 voti a favore e 13 contrari la terza variazione al bilancio di previsione 2022-2024. Durante la votazione sono stati approvati una serie di emendamenti presentati dal Presidente della Giunta Eugenio Gianni con i quali si sono introdotti alcuni contributi. Al voto anche due ordini del giorno collegati, approvato all'unanimità quello del PD, che impegna la Giunta regionale a confermare un adeguato livello di finanziamento degli interventi educativi per l'infanzia e ad arrivare quanto prima a garantire la gratuità degli asili nido in Toscana per le fasce di reddito più basse, tramite l'utilizzo delle risorse comunitarie. Respinto invece quello a firma della consigliera del gruppo misto Toscana domani Elisa Tozzi, che intendeva impegnare la Giunta ad attivarsi per definire un accordo con le associazioni rappresentative delle RSA toscane per l'aumento della quota sanitaria nelle residenze sanitarie assistenziali. L'atto è stato sostenuto dal Lega Fratelli d'Italia e dal consigliere d'Italia Viva Maurizio Sguanci. Il Consiglio regionale ha approvato una variazione di bilancio, la cui caratteristica principale è senza dubbio quella della riduzione dell'autorizzazione all'indebitamento. Oltre 120 milioni in meno di autorizzazione all'indebitamento per l'anno corrente dovuto al fatto che ci sono una serie di spese di investimento che vengono tutte spostate sulle annualità successive. Tuttavia questa manovra presenta alcuni tratti importanti, molte linee di finanziamento che in parte vengono effettuate mediante autorizzazione all'indebitamento e dall'altra mediante strumenti diversi da quelli del ricorso al credito. Tra gli interventi più significativi di questa manovra si registra senza dubbio lo stanziamento di 46 milioni a favore della sanità, a favore delle nostre aziende sanitarie locali e degli enti derivati del sistema sanitario regionale. Si tratta di 10 milioni che vengono assegnati all'ospedale di Cisanello per gli importanti lavori che qui si stanno svolgendo e per il rincaro che c'è stato dei costi dell'energia e delle materie prime, ma dall'altra parte ci sono altri 36 milioni che vengono messi a disposizione delle aziende sanitarie per i servizi sanitari. Questo perché le aziende nel tempo hanno dovuto effettuare una serie di investimenti sull'edilizia che non sono coperti dall'articolo 20 della legge dell'88 e quindi oggi la regione stanzia in conto capitale 36 milioni allo scopo proprio di permettere investimenti in edilizia sanitaria garantendo però il rispetto dei livelli di servizi sanitari che abbiamo avuto fino a questo momento. Ci sono poi tutta una serie di importanti contributi che vengono dati ai comuni soprattutto collegati al settore della cultura e a quello dell'edilizia collegata alla cultura, al patrimonio storico e artistico e particolarmente importante è la misura di 12 milioni di euro che la regione mette a disposizione per la bonifica della falda delle aree SIN e SIR di Massa Carrara. Il rischio di quest'anno che ormai è diventato attuale è quello del definanziamento di queste risorse ministeriali. La regione pur non avendo responsabilità alcuna in materia decide per responsabilità politica di mettere a disposizione queste somme nell'auspicio che il Ministero della Transizione Ecologica possa poi restituirle alla regione toscana. Quindi 12 milioni sono gli investimenti che vengono fatti per la bonifica all'interno di questa manovra. Una manovra importante che cerca di dare risposte a molti settori nei quali si manifesta il governo del nostro territorio e che soprattutto mira a garantire da una parte una sanità efficiente, dall'altra a continuare nel percorso di tutela dell'ambiente del nostro territorio e dall'altra ancora fa molti e seri investimenti nel settore della cultura, nel settore dell'istruzione e della garanzia che si deve dare ai servizi all'infanzia. L'ultima variazione di bilancio consente di inquadrare quello che è stata l'attività economico-finanziaria della regione toscana. Il fatto di avere solo tre variazioni di bilancio in un anno da conferma dell'ottima attività di programmazione che c'era nel bilancio che approvammo alla fine del 2021, il bilancio di previsione 2022 e questo quindi conforta la correttezza, la serietà, la forza dell'azione amministrativa della regione toscana. Questa è una variazione di bilancio che si è rivolta soprattutto al sostegno alle attività culturali. Quattro quinti della spesa corrente che è stata prevista è stata per le attività culturali come sempre l'ultima variazione di bilancio e devo dire che anche dalla mancanza di rilievi su queste politiche culturali che è venuta in consiglio ne trago lo stimolo del ben fatto rispetto a quello che è la politica di sostegno alle biblioteche, ai musei, alle fondazioni liriche, alle fondazioni teatrali che la regione toscana ha messo in campo. Sono altresì convinto che la variazione di bilancio rende molto equilibrato rispetto al territorio il livello degli investimenti che la Toscana e con la parte corrente il sostegno alle istituzioni che gestiscono dal Pucciniano al Carnevale di Viareggio, dal Teatro Comunale di Firenze a quello che sono la rete dei musei ai Toscani, al Pergola che interviene a Firenze come a Pontedere e a Peccioli. Insomma una possibilità di vedere una buona gestione attraverso il sostegno della regione e degli ottimi investimenti dal teatro di San Giovanni Valdarno a quello di Fognano della Chiana al ripristino della correttezza della cinta muraria a Montopulciano. Ha tutta una serie di interventi anche su impianti sportivi, penso allo stadio di Atletica Empoli, alla capacità a Certaldo di finire con i 500 mila euro della regione un intervento di 7 milioni che ci porta a una piscina che va su tutto il territorio. Io devo dirvi che ho ricevuto un vasto consenso proprio sulla base di questa proposta che mi sembra confortato dalla coesione della maggioranza PD Italia Viva che non ha sgarrato un voto su un emendamento in Consiglio regionale. Siamo coerentemente e fortemente contrari a questa variazione di bilancio e al provvedimento di interventi ad essa relativo. Innanzitutto non ci è piaciuto il metodo perché la manovra è stata approvata dalla Giunta il 17 ottobre ed è arrivata in Consiglio soltanto l'8 di novembre. In prima commissione abbiamo fatto le corse per studiare in modo approfondito gli atti quando poi abbiamo visto per motivi politici di tenute della maggioranza addirittura tre rinvii. Il Presidente Gianni continua ad avere una concezione aristocratica dell'attività di governo come se i rappresentanti del popolo fossero dei meri obliteratori delle proprie decisioni. Così non va. Ma siamo anche molto scettici per quanto riguarda questa serie di rimodulazioni, di rinvie e di opere strategiche che i toscani aspettano ormai da anni. Potenziamento e modernamento della rete ferroviaria e gli interventi sulle infrastrutture viarie. Siamo preoccupati per la tenuta dei conti della sanità. Questa terza variazione arrivano 46 milioni di cui 10 per Cisanello e 36 per coprire dei buchi che sono stati fatti con l'utilizzo di fondi correnti dall'ASL per manutenzione straordinaria. Altra procedura impropria per quanto sostiene la Corte dei Conti. E in ultimo ci sono addirittura delle disposizioni non aventi in natura finanziaria all'operazione di Cosmic, New Sesta Lab, che non dovrebbero stare in questa legge ma che invece per motivi di urgenza vediamo proprio essere inseriti. Quello che continuiamo a dire è che la Toscana ha bisogno di idee chiare. Il Presidente Gianni deve esporci qual è la sua visione di Toscana. Noi lo diciamo, una Toscana che sappia certamente coniugare la propria capacità di attrarre turisti con il rilancio e il sostegno alla produzione manifatturiera. Invece Gianni continua a deludere e ha sempre più problemi all'interno della propria maggioranza. E' arrivata una variazione di bilancio che è composta da 49 articoli, diventati ieri sera poi 53. Sono stati consegnati nella sua versione definitiva ai consiglieri ieri alle 15, chiedendoci stamattina di votarli, dopo che c'erano stati concessi otto giorni scarsi per poterli discutere, motivando gli otto giorni con la massima urgenza. In otto giorni non si legge un bilancio, non si legge un bilancio fatto come questo. Questo è un bilancio che ha al suo interno 20 articoli che servono a rimandare al prossimo anno gli investimenti che erano previsti per quest'anno. E sono gli stessi investimenti che l'anno scorso avevamo rimandato a quest'anno e che nel 2020 avevamo rimandato al 2021. E non si parla di opere che non servono alla Toscana, ma si parla di opere che servono come il pane alla nostra regione, il raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Lucca, non è una cosa che non serve. La viabilità nelle province di Pistoia, di Prato, di Pisa, di Lucca, non è che non servono. Sono cose fondamentali per la nostra regione e gli investimenti vengono rimandati. Poi ci sono tutta una serie di nuovi interventi puntuali che parlano di ristrutturare un cinema, un teatro, un impianto sportivo in un comune piuttosto che in un altro che necessitavano di un approfondimento di un mese. Perché mi spiegate voi come è possibile che un'opposizione si esprima sulla ristrutturazione del cinema di San Giovanni Valdarno. Per esprimersi sulla ristrutturazione del cinema di San Giovanni Valdarno, se non devo fare un torto a quei cittadini che mi hanno votato, io devo avere la possibilità di confrontarmi con i rappresentanti di Fratelli d'Italia nella zona del Valdarno e capire se l'intervento sul cinema di San Giovanni è fondamentale o se magari il cinema di Montemarchi aveva la stessa necessità o maggiore necessità rispetto a quello. Quindi tutti interventi di questo tipo. Non ci vengono concessi i tempi, motivandola con l'urgenza. Poi la Commissione, che deve analizzare il bilancio, salta cinque volte perché la maggioranza non ha il numero legale. Perché i consiglieri di Italia Viva e i consiglieri di minoranza del PD non vengono in Commissione e salta. Allora, per studiare il bilancio c'è l'urgenza. Per aspettare che il PD e Italia Viva si trovino d'accordo sulla spartizione, non so di cosa, allora si può aspettare anche quattro giorni. Speriamo non risucceda più. Detto questo, nel merito, il bilancio è un bilancio, come ho già detto, che rimanda tutti gli investimenti sulle opere infrastrutturali al prossimo anno, probabilmente il prossimo anno lo rimanderemo a quello dopo e così via, che parla di una serie di interventi puntuali, probabilmente utili, ma che non siamo in grado di giudicare perché non è stato possibile approfondire il bilancio, ma sono interventi puntuali, sono interventi limitati ad alcuni comuni scelti con un criterio che non sappiamo. Abbiamo scoperto ieri sera alle 7 che il Presidente Gianni ha aggiunto un contributo per il Comune di Empoli. Che è successo ieri sera alle 7 a Empoli? Cos'è cambiato? Non ci viene in mente niente di nuovo da ieri sera a oggi. Quindi è un bilancio fatto così. Si conferma l'impressione che la Giunta operi con interventi a spot, senza una vera programmazione che porti a una crescita economica della Regione Toscana, ma soprattutto non si capisce nemmeno in base a quale ordine di priorità vengono dati questi finanziamenti. In questo caso si tratta soltanto di rimandare ai prossimi anni delle cifre che non sono state ancora utilizzate, ma c'è anche delle cose straordinarie, ossia stanziare 12 milioni di euro per le bonifiche del SIN-SIR di massa dopo che la Regione è riuscita a perdere i 17,8 milioni di euro stanziati dal Ministero, dal MITE, a caso di una sua endemica inerzia. E non solo sono stati stanziati 10 milioni di euro per l'incremento dei costi dell'energia all'ospedale di Cisanello, ma non c'è notizia di tutti gli altri ospedali della Toscana. Stessa cosa per le opere infrastrutturali, per le quali è stato previsto un aumento dei costi delle materie prime, ma non per tutte, quindi viene quasi a mancare un principio di equità per tutte le opere infrastrutturali che sono in programma. Quindi ora aspetteremo la replica del Presidente Gianni che ci dica che cosa prevede al riguardo. In ogni caso quello che rimane è sostanzialmente un'impressione di grande improvvisazione, anche perché eliminare 10 milioni di euro dalle spese del personale vuol dire non essere in grado di fare un'adeguata programmazione, perché il costo del personale si sa qual è, c'è uno storico e soprattutto si sa che andrà in pensione. Un atto molto importante che Tel Avivo ha sostenuto con forza, perché in questa misura finanziaria vengono finanziati interventi molto importanti nei territori, a partire dal sistema sanitario per arrivare a interventi ormai necessari in molti comuni, riguardano le palestre scolastiche, riguardano impianti sportivi, riguardano teatri, cinema, il sostegno per esempio ai comuni che devono fare interventi urgenti, pensiamo a quello di Montepulciano sulle mura, o altri comuni che necessitavano urgentemente di risorse. La Regione Toscana si fa trovare pronta nel sostenere le richieste che arrivano dai territori. Tel Avivo è stata determinante per portare questo atto in aula, rivendichiamo il nostro ruolo in maggioranza e su questo lo stiamo rivendicando in termini anche politici per attuare, dopo due anni di mandato, una nuova programmazione che possa rideterminare lo slancio nuovo per quanto riguarda un mondo che è cambiato rispetto alle questioni energetiche, dei rifiuti. Pensiamo al sostegno alle imprese, abbiamo portato un fondo a sostegno di quelle imprese che ancora faticano dopo l'esperienza del Covid e che hanno problemi a pagare le bollette, quindi siamo soddisfatti di questa manovra di bilancio che abbiamo voluto fortemente essere approvata in queste settimane perché potesse provare e produrre degli effetti fin dai primi mesi del 2023. Una variazione di bilancio che naturalmente non si discosta rispetto a quello che è il motivo trainante di due anni di mandato, ovvero una totale assenza di programmazione, misure estemporanee, misure che sostanzialmente denotano una totale mancanza di visione sul futuro della Toscana. Non c'è niente per le imprese, non c'è niente per le famiglie, non c'è un ricorso anche all'indebitamento e quindi alla contrazione di mutui che possa giustificarsi nell'ambito di interventi strutturali importanti. Ecco perché naturalmente su questo noi esprimeremo totalmente un voto contrario. Rimangono ancora dei capitoli aperti, il capitolo del bilancio della sanità, ancora non sappiamo esattamente l'entità delle risorse che ci saranno, si cerca di scaricare le incertezze sui bilanci, sulle politiche del Governo quando in realtà sembra che arriveranno altri fondi, c'è ancora aperta la questione delle società partecipate, c'è sostanzialmente un caos che naturalmente abbiamo visto esprimersi al massimo anche nella difficoltà in quello che io ho definito quasi uno psicodramma di approvare poi in commissione questa variazione. Segno evidente che c'è anche naturalmente una crisi politica dietro a questi provvedimenti che naturalmente noi stentiamo a definire manovre finanziarie che non tengono assolutamente conto nemmeno del contesto socio-economico che pure IRPET ha delineato con una certa chiarezza. Ancora manca diciamo una sostanziale cronoprogramma certo su quello che è l'impiego delle risorse e soprattutto del PNRR che anche questa è una voce importante perché si tratta comunque di una spesa pubblica che in qualche modo dovrebbe essere destinata ad investimenti duraturi in realtà ciò che appare è che in Toscana si continua ad indebitarsi per fare opere che in realtà poi non tengono conto minimamente di una prospettiva e di un consolidamento futuro anche del nostro patrimonio regionale. Quindi un giudizio negativo a tutto campo. Grazie a tutti.